Buongiorno da FTA Online, moderato rialzo in avvio questa mattina per la borsa, Fuzzimib in questo momento più 0,83% a 21.420 punti circa, prossima resistenza intorno ai 21.485 punti, livello oltre il quale sarebbe possibile un test di area 21, 7 e 30. Vi invitiamo a visionare il nostro nuovo corso di analisi tecnica sul sito www.ftonline.com e a dirci cosa ne pensate sui commenti relativi al video. Passiamo ora allo studio dei mercati per quello che riguarda il giornato odierna, iniziamo con Enel che è in rialzo dello 0,15% circa, sul titolo Banca EMI ha confermato la raccomandazione Hold con un target price a 4,50 Euro, quindi nettamente a di sopra dei prezzi attuali. Da un punto di vista grafico abbiamo avuto nel corso delle ultime sedute un rimbalzo significativo che è partito dal test dei minimi del mese di settembre, i prezzi sono scesi quindi fino in area 3,75 mettendo poi a segno una reazione che potrebbe a questo punto mirare alla parte alta del trading range che i prezzi hanno disegnato nel corso dell'ultimo trimestre, quindi con un superamento del picco di settimana scorsa a 4 Euro, possibili movimenti fino ai 4,25 Euro. In termini temporali più estesi, vediamo che se i prezzi dovessero salire di sopra dei 4,20 Euro, ci sarebbe effettivamente la possibilità di un ritorno sui massimi di luglio a 4,44 Euro ed eventualmente anche sui massimi dell'anno toccati a 4,50 Euro. L'importante è che il titolo si mantenga di sopra di area 3,85 per evitare il ritorno sui 3,70-3,75, quota di sotto della quale le attese di un'ulteriore fase positiva avrebbero negate. Veniamo ora a Fiat Chrysler, è interessante questa mattina il movimento del titolo, siamo a 12,90 Euro circa. Su Fiat Chrysler UBS ha annunciato di aver ripreso la copertura con una raccomandazione neutrale, è un prezzo obiettivo a 14 Euro, quindi anche in questo caso superiore ai livelli attuali. Abbiamo per quello che riguarda il breve termine una linea di tendenza da tenere monitorata, che è quella che parte dal massimo di ottobre, in questo momento resistenza intorno ai 13,20 Euro, al di sopra di quella quota riteniamo che sia possibile il test della linea di tendenza di più ampio respiro, quella che parte dai massimi dell'anno e che in questo momento transita a 14,30 Euro, quindi al di sopra di 13,20 Euro ci sarebbe circa 1 Euro di spazio di rialzo per il titolo. Notiamo la presenza di un piccolo gap rialzista aperto se settimana scorsa il 17,12 con una base a 12,55 Euro, solo se dovessimo scendere al di sotto di quei livelli ci sarebbe il rischio di una flessione più ampia che potrebbe andare ad interessare la linea di trend che sale dai minimi di settembre e che in questo momento transita intorno agli 11,77 Euro. Veniamo infine a RCS, per la quale questa mattina c'è molto interesse, la società presenta il nuovo piano industriale, gli analisti di Mediobanca Securities hanno confermato il rating neutral sul titolo con un target price a 0,96 Euro, la chiusura di venerdì è stata a 0,48,50 Euro, questa mattina il titolo quota 0,50,70 Euro circa. Vediamo la presenza di una lunga tendenza negativa che è partita dai massimi di inizio anno, in questo momento se andiamo a guardare gli indicatori tecnici di uso più comune come ad esempio l'RSAI calcolata a 14 sedute, vediamo che il titolo non solo è in una situazione di per venduto, ma si è anche sviluppata una evidente divergenza rialzista con l'indicatore che ha smesso di creare nuovi minimi già nel corso del mese di novembre, mentre il titolo è proseguito in questo periodo sulla sua fase calante. La creazione di questa divergenza lascia ben sperare per il destino, almeno a breve termine del titolo, che potrebbe avviare quindi una fase di correzione anche estesa di tutto il ribasso che c'è stato dai massimi di inizio anno, in termini di ritracciamenti Fibonacci questo significerebbe vedere tornare le quotazioni almeno in area 0,65, ma riteniamo che in un'ottica temporale più dilatata sia possibile puntare ad un target almeno posizionato in area 0,77, quindi i prezzi attuali potrebbero essere e rappresentare una buona opportunità di ingresso sul titolo, a parte di proteggere le posizioni con uno stop loss da attivare di sotto dei minimi di 0,44 e 0,60. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento con il consueto commento giornaliero domani alla stessa ora. Grazie.